Ospite ad una cena degli auguri di Natale ad Arezzo, il presidente della regione toscana Eugenio Gianni ha incontrato Vasco Giannotti, fondatore del Forum Risk Management in Sanità e ne ha voluto elogiare la creatura che da 17 anni porta ad Arezzo i maggiori esperti del settore rappresentando, ha detto lo stesso presidente, un punto di riferimento in tutta Italia come lui stesso ha avuto modo di constatare in prima persona. Io mi sono reso conto che nel Forum si viveva un clima particolare e devo dire di questo ne ho avuto anche riscontro poi in questi giorni quando a Milano lunedì e martedì abbiamo tenuto la riunione dei presidenti, il primo festival delle regioni, così è definito, ovvero i presidenti delle regioni riunite ma anche i vari assessori, dirigenti, insomma il mondo dei vertici delle 20 regioni italiane e in 3 o 4 occasioni si è fatto riferimento negli ambienti della sanità al Forum, quindi a mio giudizio quest'anno il Forum, puoi essere orgoglioso, ha vissuto un ulteriore salto di qualità.